il tempo e la terra sono il regno dell'orrore della fatalità per questo non darò una data alla storia che mi accingo a narrare dirò solo che all'epoca di cui parlo nel cuore dell'ungheria fioriva una radice profonda ma nel segreto delle sette la credenza nelle dottrine della metempsicosi relativamente all'essenza di queste dottrine cioè alla loro falsità o attendibilità non dirò nulla affermo tuttavia che gran parte della nostra incredulità deriva dal fatto che non possiamo pensare di essere soli ma la superstizione ungherese in alcuni punti rasentava paurosamente l'assurdo gli ungheresi divergevano sostanzialmente dalle loro autorità orientali cito un esempio l'anima dicevano i primi riporto qui le parole di un acuto intelligente studioso parigino dimora solo una volta in un corpo sensibile inoltre un cavallo un cane un uomo stesso e solo la piccola sintesi tangibile di questi animali una rivalità secolare divideva il riffinzing dai mezzergenstein mai a memoria d'uomo due caste così illustri si erano esasperate a vicenda in una ostilità tanto feroce l'origine di questa inemicizia pare si debba ricercare in un'antica profezia che dice quando la mortalità dei mezzergenstein trionferà fatalmente sulla immortalità dei berliffinzing così come il cavaliere trionfa sul suo cavallo spaventosa sarà la fatale caduta di un grande nome senza dubbio le parole in se stesse avevano poco o nessun significato ma cause più volgari hanno dato origine e non molto tempo addietro a effetti ugualmente sensazionali inoltre i due feudi che erano contigui avevano a lungo garezzato nel far sentire il loro peso determinante negli affari di un governo pieno di intrighi si aggiunga che raramente i vicini sono amici e gli abitanti del castello di berliffinzing dai loro possenti contrafforti potevano guardare nelle finestre stesse del palazzo mezzergenstein meno che mai la magnificenza più che feudale dei mezzergenstein avrebbe potuto placare i sentimenti irritabili dei meno antichi e meno ricchi berliffinzing non c'è da stupirsi dunque se le parole della profezia per quanto ingenue erano riuscite a far sorgere a mantenere in vita l'ostilità di due famiglie già estigate all'odio e alla contesa dalla loro stessa gelosia ereditaria la profezia sembrava che alludesse se a qualche cosa alludeva al trionfo finale della casata più potente e appunto per questo veniva ricordata col più amaro rancore da quello meno potente e meno autorevole wilhelm conte di berliffinzing nonostante la sua nobilità era all'epoca di questo racconto un vecchio infermo e rimbambito non peraltro in signe che per una sfrenata e incallita antipatia verso la famiglia del suo rivale e per una così forte passione dei cavalli e della caccia che a scorno dei suoi acciacchi della sua vecchiaia della sua imbecillità affrontava ogni giorno i pericoli delle battute frederick barone di mezzergenstein era invece ancora minorenne suo padre il ministro g era morto in giovane età sua madre la di mary lo aveva seguito a breve distanza a quell'epoca frederick aveva 18 anni in una città 18 anni non sono un lungo periodo ma nella solitudine in una solitudine così splendida come quella di un vecchio principato il pendolo oscilla con un senso più profondo per alcune circostanze particolari in cui non si trovava l'amministrazione dei beni paterni il giovane barone alla morte del predecessore entrò immediatamente in possesso dei vasti domini raramente prima di lui un nobile ungherese aveva posseduto un così vasto patrimonio i suoi castelli erano innumerevoli il più grande il più splendido era il palazzo mezzergenstein il confine dei suoi domini non era mai stato chiaramente definito ma il suo parco principale aveva un perimetro di 90 chilometri poche furono le congetture che si potevano fare sulla probabile condotta del successore così giovane con un'indole così ben conosciuta così incomparabilmente ricco per tre giorni infatti il giovane erede superando le speranze dei suoi più fanatici ammiratori vinse in dissolutezza e crudeltà erode turpi baccanali scandalose perfidie inaudite atrocità fecero immediatamente capire ai suoi inquieti vassalli che nessuna servile sottomissione da parte loro né alcuno scrupolo di coscienza da parte sua avrebbe da allora in poi potuto difenderli dalle crudeli zanne di quel piccolo caligola la notte del quarto giorno si videro bruciare le scuderie del castello di berliffitzing e il vicinato fu tutto unanime nell'aggiungere quel delitto al già spaventoso elenco delle scelleratezze e delle atrocità del barone ma durante il tumulto causato dall'incendio il giovane aristocratico se ne stava seduto in un salone deserto al piano superiore dell'avito palazzo di metzergerstein e sembrava sprofondato in meditazione pendevano dalle pareti a razzi magnifici ma sbiaditi dal tempo lugubremente oscillanti che raffiguravano in forme vaghe maestose un migliaio di illustri antenati qui preti e dignitari pontifici in lo suo sermellino seduti familiarmente con l'autocrate il sovrano oppongono il veto agli ambiziosi disegni di un re temporale o frenano con il fiat dell'impero papale lo scettro ribelle dell'arci nemico lì i principi metzergerstein cupi alti con i loro muscolosi destreari spronati al galoppo sui corpi dei nemici caduti turbavano i narvi più solidi per la loro espressione vigorosa e qui ancora dame del passato dalle figure voluttuose snelle come cigni sfioravano il suolo negli arabeschi di una danza irreale accompagnata da una immaginaria melodia il barone ascoltava o fingeva di ascoltare lo strepito che venivano a mano crescendo dalle scuderie dei berlì fizzing o forse macchinava qualche atto di audacia più nuovo e più deciso a un tratto i suoi occhi si posarono istintivamente sulla figura di un enorme cavallo dal manto di un colore innaturale raffigurato sull'arazzo come appartenente a un antenato saraceno della famiglia del suo rivale immobile come una statua spiccava in primo piano il cavallo poco più indietro il suo cavaliere abbattuto veniva finito dalla daga di un metzergerstein sulle labbra di frederick affiorò un'espressione diabolica appena si accorse dell'oggetto sul quale i suoi occhi si erano inconsciamente posati tuttavia non li distolse di lì anzi non sape darsi ragione dell'opprimente ansietà che sembrava calare come un drappo funebre sopra i suoi sensi gli fu difficile conciliare le sue illogiche sensazioni di sogno con la certezza di essere sveglio tanto più fissava la scena tanto più la magia lo incantava e tanto più gli sembrava impossibile sottrarre lo sguardo dal fascino che emanava da quella razzo improvvisamente fuori del palazzo crebbe la violenza del tumulto allora con uno sforzo si volge a guardare i bagliori di luce rossastra che le scuderie in fiamme riverberavano sulle finestre del salone ma dura poco il suo sguardo infatti ritornò meccanicamente alla parete e qui stupì non ridì la testa del gigantesco destriero aveva mutato posizione il collo dell'animale dapprima curvato come per compassione sul corpo abbattuto del suo signore si era ora proteso in tutta la sua lunghezza verso il barone gli occhi dapprima invisibili ispiravano energia e umanità attesi di un rosso infuocato e insolito e nella bocca di grignante del cavallo che sembrava infuriato spiccavano sepolcrali e ripugnanti i denti inebetito dal terrore il giovane gentiluomo corse vacillando alla porta l'aprì e un fascio di luce rossastra che invase la sala mandò la sua ombra a disegnarsi nettamente sull'arazzo che ne rabbrividì esitò un istante sulla soglia barcollò e con un fremito vide l'ombra coincidere perfettamente con la figura dello spietato e trionfante uccisore del saraceno berliffitzing per liberarsi da quest'incubo il barone si precipitò all'aria aperta sull'entrata principale del palazzo si imbatté in tre scudieri che a stento e a rischio della loro vita cercavano di frenare gli impedi convulsi di un gigantesco cavallo rosso come il fuoco di chi è questo cavallo dove l'avete preso domandò il giovane con voce inasprita dalla collera appena si accorse che la bestia selvaggia che gli stava dinanzi era la copia perfetta del misterioso destriero dell'arazzo è vostro signore rispose uno degli scudieri almeno nessun altro proprietario lo reclama abbiamo catturato mentre fuggiva tutto fumante e schiumante di rabbia dalle scuderie in fiamme del castello di berliffitzing abbiamo pensato che appartenesse all'allevamento dei cavalli stranieri del vecchio conte e che si fosse smarrito e così l'abbiamo riportato al castello ma lì gli staglieri ci hanno detto di non avere alcun diritto sul cavallo e questo è strano perché la bestia porta segni evidenti di essere sfuggito a stento alle fiamme inoltre sulla fronte porta in presse a fuoco le lettere VVS interruppe un altro stagliere e ho supposto naturalmente che fosse la sigla di Wilhelm von Berliffitzing men che al castello neghino assolutamente di conoscere il cavallo strano molto strano disse il giovane barone con aria assorta e visibilmente ignaro del significato delle sue parole un magnifico cavallo davvero un cavallo straordinario non sbagliate affatto sebbene come voi vedete sia ombroso e intrattabile e dopo una pausa soggiunse ebbene lo terrò io forse un cavaliare come Frederick von Metzingerstein può domare perfino al diavolo semmai uscisse dalle scuderie di Berliffitzing sbagliate mio signore questo cavallo non proviene dalle scuderie del conte e credo che ve lo abbiamo già detto perché in un caso simile noi sappiamo troppo bene il nostro dovere per portarlo alla presenza di un nobile della vostra famiglia vero osservò il barone seccamente nel momento stesso in cui un giovane cameriere a passi precipitosi e rosso in viso giungeva al palazzo costui bisbigliò all'orecchio del padrone entrando nello stesso tempo in particolari minuziosi e circostanziati che era misteriosamente scomparso dal salone che indicò un piccolo pezzo dell'arazzo senza che una sillaba di quello che riferiva trapelasse a soddisfare l'eccitata curiosità degli scudieri tanto era basso il tono della sua voce una ridda di emozioni sconvolse visibilmente l'animo di frederick a quella notizia ed è dell'ordine categorico di serrare immediatamente il salone e di portargli immediatamente la chiave sul suo volto era apparsa un'espressione di malvagia risolutezza avete udito della brutta morte del vecchio cacciatore Berliffitzing? disse uno dei vassagli al barone dopo che il cameriere se ne fu andato l'enorme cavallo che il signore aveva fatto proprio s'avventava e s'impennava con raddoppiato furore per il lungo viale che dal palazzo portava alle scuderie dei Metzingerstein no disse il barone volgendosi bruscamente all'interlocutore morto hai detto? sì mio signore e a un pari vostro immagino che questa notizia non giungerà sgradita un sorriso guizzò sul volto di chi lo ascoltava come morto? mentre tentava temerariamente di salvare i suoi cavalli da caccia favoriti e miseramente perito tra le fiamme veramente? esclamò il barone come se si lasciasse impressionare lentamente e deliberatamente dalla verità di un'idea eccitante veramente? ripete il vassallo orribile disse il giovane con calma e ritornò senza batter ciglio al palazzo da quel giorno qualcosa mutò sensibilmente nella condotta esteriore del corrotto giovane barone FVM infatti il suo modo di comportarsi deludeva ogni speranza e sconcertava i disegni di molte mamme intriganti le sue abitudini e le sue maniere più che mai urtavano la suscettibilità dell'aristocrazia nessuno più lo vedeva fuori dei suoi domini e nel suo mondo il vasto mondo della società viveva completamente senza amici solo a meno che quel cavallo soprannaturale impetuoso color del fuoco che egli d'allora in poi continuamente cavalcava non avesse misteriosamente diritto al titolo di amico tuttavia per un lungo periodo ricevette numerosi inviti da parte dei suoi vicini vorrà il barone onorare la nostra festa con la sua presenza? vorrà il barone unirsi a noi nella caccia al cinghiale? metzengelstein non va a caccia metzengelstein non accetta erano le superbe e laconiche risposte un'orgogliosa aristocrazia non poteva tollerare questi ripetuti insulti e così gli inviti si fecero meno cordiali meno frequenti infine cessarono del tutto la vedova dello sfortunato conte Berlifitzing fu perfino udita a esprimere il voto che il barone restasse a casa quando non desiderava starci dal momento che fuggiva la compagnia dei suoi simili e cavalcasse quando non desiderava cavalcare poiché preferiva la compagnia di un cavallo questo in verità era lo sfogo puerile di un rancore ereditario e dimostrava semplicemente come le nostre parole possono divenire stranamente insignificanti quando desideriamo essere energici in modo particolare tuttavia le persone caritatevoli attribuivano il mutamento della condotta del giovane signore al naturale dolore di un figlio per la perdita prematura dei genitori dimenticando però il suo comportamento atroce e avventato nel breve periodo immediatamente successivo a quella perdita c'erano alcuni infatti i quali dicevano che si era fatta un'idea troppo arrogante della propria importanza e della propria dignità altri ancora e fra questi bisogna ricordare il medico di famiglia non esitarono a parlare di malinconia morbosa e di malattie ereditarie invece fra il popolo correvano oscure allusioni di natura più equivoca in realtà l'irragionevole attaccamento del barone alla sua cavalcatura attaccamento che ogni nuova manifestazione dell'indole feroce e demoniaca dell'animale sembrava rendere più morboso alla fine divenne agli occhi di tutte le persone ragionevoli una passione terribile contro natura nel bagliore di mezzogiorno nel cuore della notte ammalato o sano nel sereno o nella tempesta il giovane Metzingerstein sembrava inchiodato alla sella di quel cavallo gigantesco la cui indocile audacia si accordava così bene al suo spirito inoltre agli ultimi avvertimenti si erano aggiunte alcune circostanze che diedero un carattere soprannaturale prodigioso alla mania del cavaliere e ai poteri del cavallo era stato accuratamente misurato lo spazio che il cavallo copriva con un salto e si trovò che superava con una differenza da far sbalordire le più esagerate supposizioni delle menti più esaltate il barone poi che pure aveva assegnato ad ogni suo cavallo un nome caratteristico non ne aveva nessuno per l'animale la stalla era isolata dal resto delle scuderie e nessuno tranne il padrone in persona aveva avuto il coraggio non dico di badare alla cura e al governo del cavallo ma addirittura di entrare nel recinto della sua stalla si notò inoltre che i tre stallieri che avevano catturato il cavallo in fuga dalle scuderie in fiamme dei berrifitzing erano riusciti sì a bloccare la sua corsa imbrigliandolo con catene e nodi scorsoi ma nessuno dei tre poteva affermare di aver realmente messo una mano sul corpo dell'animale sia durante quella pericolosa lotta che in qualsiasi altro momento la singolare intelligenza di un cavallo nobile e focoso non manca talvolta di suscitare nella gente un interesse ragionevole ma questo cavallo impressionò in certe circostanze perfino i più scettici e più flemmatici si dice che ci furono delle volte in cui la gente che stava stupita intorno all'animale fosse indietreggiata per l'orrore che suscita il cupo impressionante significato del suo terribile scalpitio e delle volte in cui il rapido sguardo del suo occhio umano che sembrava frugare nell'anima avesse fatto impallidire e fuggir via il giovane mettengerstein tuttavia quella fanatica e straordinaria passione del giovane barone per le ardenti qualità del suo cavallo non fu mai messa in dubbio da nessuno dei suoi cortigiani soltanto un piccolo paggio insignificante e deforme le cui deformità sempre sotto gli occhi di tutti erano più interessanti delle sue opinioni aveva se vale la pena di tener conto delle sue idee la sfrontatezza di dire che il suo padrone non era mai salito in arcioni senza brivido inesplicabile e quasi impercettibile e che al ritorno da ogni sua lunga e abituale cavalcata un'espressione di malignità trionfante deformava i muscoli della sua faccia una notte tempestosa mettengerstein si svegliò di soprassalto da un sonno pesante scese come impazzito dalla sua stanza balzò in sella con furia infernale spronò e scomparve nel groviglio della foresta queste sue partenze passavano inosservate tanto erano comuni ma quella notte il suo rientro fu atteso con grande ansietà dai suoi servi quando dopo alcune ore di assenza si videro le magnifiche mure merlate del palazzo mettengerstein sussoltare e fendersi con paurosi scricchiolii fin dalle fondamenta sotto l'azione di una densa e livida massa di fuoco indomabile questo incendio fu scoperto le fiamme avevano ormai raggiunto una violenza così terribile che tutti gli sforzi per salvare una qualunque parte dell'edificio apparvero inutili e i vicini presi alla sprovvista se ne stavano intorno inerti silenziosi sbalorditi a un tratto però l'attenzione della moltitudine fu distolta e inchiodata da un fatto nuovo e spaventoso che dimostra quanto la folla sia più intensamente eccitata alla visione dell'agonia umana che dal più spaventoso spettacolo della materia inanimata per il lungo viale di annose querce che portava dalla foresta all'entrata principale del palazzo mettengerstein fu visto un cavallo con in groppa un cavaliere con i capelli al vento e gli abiti in disordine venire di gran carriera con un impeto che superava l'impeto stesso del demone della tempesta il cavallo era evidente non ubbidiva più al morso i sforzi del cavaliere erano sovrumani non si vedeva dall'espressione angosciata della sua faccia e dal tendersi convulso delle sue membra nessun suono gli sfuggì dalle labbra lacerate che nella stretta del terrore si mordeva sempre più all'infuori di un grido solitario fu un attimo e sul rigito delle fiamme e l'uluro dai venti si alzò altissimo e acuto il suono martellante degli zoccoli un attimo ancora escavalcando con un balzo solo la porta e il fossato il cavallo si avventò su per le scale del palazzo che ormai rovinavano e sparì col suo cavaliere nell'inferno di fuoco in quel preciso istante cadde la furia della tempesta e seguì una calma di morte una fiamma bianca come un sudario avvolse l'edificio e alzandosi alta nella quieta atmosfera irradiò lontano un bagliore soprannaturale e una nuvola di fumo gravò sopra i bastioni nella forma distinta e gigantesca di un cavallo